Allora, rieccoci, benvenuti nella mia cucina come sempre, però questa volta le luci vanno meglio, ammettetelo. Dunque, devo ancora asistirmi, ho ancora gli stivali, ho ancora tutto, ma facciamo subito il giuato alla spesa, perché ho preso delle cose da frigo che vanno nella spesa. Allora, come avete visto intanto dalla prima borsa, sono andata a prendere un po' di pacchi da Amazon, questi qui, aspettate perché in alcuni c'è il nome in altri no, più quegli altri che avete visto comunque nella foto. Da quando ho scoperto l'hub di Amazon e ce l'ho anche vicino, è una figata, perché posso prendere qualunque cosa, farlo arrivare al lab e non ne devo pagare la spedizione, è come se avesse un prime, ma non al prime. Quindi scusate, questi qua li mettiamo via, in diretta, perfetto. Dunque, adesso andiamo con le cose da frigo e ho preso in offerta il cotto, liberamente casa Modena, questa è in offerta. E poi così, antipasto italiano sfizioso, questo qui, che ha un po' di crudo, un po' di coppa, un po' di salame, per cambiare, perché siamo sempre con il cotto, se no. E sempre cose da frigo, sì, scusatemi, ma io quando le trovo le devo prendere. Ecco qui, i Muller, i soffio. Quindi questo è il mousse col pistacchio, questo è il mousse bianco più gocce e cioccolato, ed è sempre il mousse bianco più cocco e cioccolato. Allora, i Muller, i mousse costano una follia, perché costano 99 centesimi al prezzo pieno, alla coppa erano scontati a 89, costano tantissimo, però sono i miei preferiti. E poi dopo, stavo cercando, ah sì, ecco, altre cose che ho preso alla coppa, coppe con quante ho. Dunque, colla. Direi che per un po' ho la colla, 3,90 euro di tutto, perché la cartoleria ci va benissimo. Colla, stick per la colla caldo, perché chissà quando mai riuscirò ad andare da Tiger a prenderla. E poi io cercavo una cosa che però non ho trovato, cioè proprio no, sapete le penne cancellabili? Ecco, intanto vi faccio vedere, scusate, i biscotti, nascondini dal mullino bianco, erano in offerta, quindi li ho presi perché sono ottimi, e poi dopo sto cercandole perché ho altre cose da farmacia che magari non vi interessano. Dunque, eccole qua, volantini, altre robe. Dunque, avete presente le penne cancellabili, quelle della Bic, quelle da bambini per andare a scuola, ma non esistono più, non le ho trovate da nessuna parte, non ho capito. Comunque, sì, ho preso la penna della Vivi Verde Cop, penna in gel cancellabile, mi serviva una penna cancellabile, non ho capito perché. E ho preso anche le ricariche. Ci sono solo due colori, allora, di tante marche ci sono, Pilot e altre marche, ok, della coppa, c'è solo blu e rossa. Va benissimo, a me serviva la blu e quindi ci stiamo. Poi dopo, non credo che vi interessa il resto, ma aspettate che... di farmacia, l'unica cosa che vi posso far vedere, perché il resto non ve ne può fregare di meno, ecco, è questa crema mani della dermovitamina, crema mani e piedi, ragadi e geloni, protegge, rigenera, idrata e nutre e adesso andate a consigliare. Sì, sì, fa anche male, sì, geloni è normale. E queste cose le mettiamo via dopo. Allora, scusate, mettiamo le cose in frigo e poi dopo vi faccio vedere intanto le altre cose finché sono qui. e rieccoci. Allora, stavo pensando una cosa, dunque, dato che è tardi, quindi sarebbe anche ora che io facessi la cena, perché sono alle 8 o meno 10, prima che arrivi a casa pronto, se no mi monopolizza la cucina, e vi faccio vedere le cose che ho preso da Tigotà e poi dopo il resto, le cose di Amazon, ne faccio il video a parte domani, che lo spacchettiamo con calma. Dunque, Tigotà, c'erano gli sconti su alcune cose, e c'erano gli sconti, allora, intanto scottex, scottex e cartigelica. Poi c'era il volantino con gli sconti, potevi usare lo sconto su un prodotto per la casa, uno per il make-up, uno per il beauty e uno per cura della persona. Allora, ho preso tovaglioli, classicissimi bianchi. Io normalmente preferisco colorati, però c'erano solo questi e va bene. Ok, poi, con lo sconto del... era scontato, quindi usavo lo sconto del 20 su un prodotto per la casa, alcol. Questo è da... non mi ricordo se era l'ultimo, ed è quello da 5 litri, poi si travasa nelle bottiglie classiche. Io normalmente prendo questo, anche perché si usa per la casa, per il camino, per pulire, per tutto, quindi ci sta. Poi dopo non so neanche io se tirare sulla borsa. Allora, sempre con gli sconti o prezzo normale? Con lo sconto, il prodotto per la cura della persona, con lo sconto, ho preso questa tinta della Garnier Color Herbalia, che adesso vi apro anche perché ve la faccio vedere. Non tanto come tinta, ma come tinta è ottima. Il colore è castano cioccolato, ma perché è particolare, ve la apro, per farvela vedere. È una polvere di enne, tipo enne, da sciogliere in acqua e poi dopo ha la sua cuffietta e tutto quanto. Allora, questa polvere, se facciamo le misure giuste, dura tanto, perché basta mettere in un contenitore ermetico, dura tantissimo, basta usarne poco per volta e io la uso per i ritocchi. Oddio, che capelli ho, perché avevo il cappellino. Quindi per i ritocchi dei capelli bianchi, questa è spettacolare e tiene poco spazio. Ora la richiudo e se mai ci riuscirò. Vabbè, ma intanto poi la metto in un contenitore a parte, quindi ok. Poi, 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 vediamo un po'. Con lo sconto, sì, con lo sconto per il make-up, ho preso il fondotinta Extreme Matte di Pupa, perché me l'avevate consigliato e quindi l'ho preso, colore 020, non l'ho ancora aperto, ma... Eccolo qua, me l'avevate consigliato e quindi l'ho preso perché ho scontato del 30%, perché quelli di Pupa costano un po' tanto e lo proviamo, me l'avete consigliato voi, quindi mi fido. Poi, altre cose con lo sconto. Allora, iniziamo i prodotti scontati o da scontare, ok, anche perché mi stiamo agli scontrini. Detergente intimo della Lactacid, protezione sensitive per gli sensibili, per tutti i tipi di pelle, protezione e delicatezza, e poi ne ho un altro, ne ho un altro, so di avercene un altro, ecco, esatto, sempre per tutti i tipi di pelle, protezione e delicatezza. Costano un po', però, in questo caso erano anche scontati, non so se con lo scontrino magari... Solo questo, non vi dico tutto. Ah, il fondotinta della Pupa viene 18,90 euro, Orca Lactacid, 1,99 euro perché era in offerta. Allora, c'è un cashback che è ancora attivo, che ogni 5 euro di... vale solo una volta... 5 euro di prodotti della Lactacid, protezione e... protezione delicatezza, protezione sensitive, quello che è, 5 euro, vi rimborsano 5 euro. Se ne pagate 10, vi rimborsano sempre al massimo 5 euro. Quindi, li ho voluti provare, anche perché sono buoni. Sempre col fatto del cashback, e l'ho trovato e l'ho preso. Eccolo qua. Sensitive Mineral Active di Mentadent. Questa è la protezione gengive, se no c'era la protezione totale. Protezione gengive, stessa cosa, un prodotto ti rimborsano fino a 3 euro e qualcosa. Ma andate sul sito del... comunque guardate di cashback perché sono cose interessanti. Allora, protezione viene 3,39 euro. No, rimborsano fino a non mi ricordo, 2,90 euro, 3,29 euro. Però, guardateci, e l'ho voluto provare anche perché è nuovo. Poi andiamo avanti con i prodotti scontati. Ho finito ragazzi, ho finito. scontato, c'era un prodotto e detergente per le mani e noi proviamo il Lisoform, già detergente mani questo qua, da 100 ml, perché se non avete notato, lì, c'è la scorta dei detergenti per mani. No, scherzi a parte. Questo va bene era scontato, però, aspettate, quello che vi consiglio io è, prendete i formati grandi, questo deve essere un litro, ecco, un litro l'ho pagato 6,90 euro alla saponeria ed è anche un buon marchio e poi dopo lo mettete in quelli da borsetta o da portarsi dietro, cioè, se no c'è anche questo, questo però è un marchio professionale, Dixon, eccola, questo è un 400 ml, però, viene 6,50 euro, ma è, guardate, solido, è proprio solido, questo va diluito con alcol, però, attenzione, non l'alcol, non questo, ma l'alcol bianco, che costa un pochino di più, quindi non ve lo consiglio. Ultima cosa che ho preso scontata, eccoci qua, ho preso scontato una spazzola per pelo, dunque, a questo punto io direi che, dato che ho finito, l'alcol costa 9,90 euro, costa un po', però, se consideriamo che 2,20 euro, quello da un litro, questo è un 5 litri e poi l'ho preso con lo sconto del 20, poi con lo sconto del 20, la tinta, con lo sconto del 20, la spazzola per il pelo, ah, la crema viso non l'ho presa, sono scordata, igienizzante, un giallo igienizzante, mani a scelta, però c'è scritto, non quelli per la ricarica, ok, qui con lo sconto del 20, e il make-up con lo sconto del 30, esclusi proprio in offerta e fremond, ok, e quindi questo era tutto, anche perché il volantino è finito, quindi, se vi può interessare, andate da Tigotà, l'ho preso, eccolo qui, la raccolta punti continua, i punti non vengono azzerati, bene, e continua fino al 30 settembre 2021, perché? Perché tanta gente non è riuscita ad andare a fare la spesa durante tutti questi blocchi, ad esempio, Tigotà era fuori comune, sì, potresti andare a fare la spesa e dici che è quei posti che effettivamente nel mio comune non c'è nessuna cosa simile, c'è un Conal City che non c'è niente, però preferivo non muovermi dove possibile, e quindi hanno prolungato la scadenza, e ci sta, dunque, io adesso sistemo tutto, vedo se, uh, uh, no, 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 c'è un'altra cosa che devo far vedere, aspettate, perché nel mentre sono andata, ahia, mi sto facendo malissimo, scusate, sposto questi che non sono noi, metto in pausa un secondo, eccoci, allora, perché nel mentre sono andata, anche senza vedere i dati personali, Coop Online, voi la sapevate la Coop Online? Ecco, io per me si è aperto un mondo, perché ci sono tanti prodotti, anche in offerta, con la carta socio in offerta, che però non ci sono in negozio, ad esempio, io ho preso delle cose che in negozio non trovo, e, ricevuta di consegna, quindi lo ordino online, e poi dopo lo faccio arrivare in negozio, mi danno un codice, ed è basta, pago direttamente in negozio, e il pacco di tutti questi è, ve lo faccio vedere, aspettatevi sempre lì, eh, tanto a voi piace aspettarmi, oh, giro in modo da non so nessun dati personali, eccolo qua, il pacco è questo, ricordatemi che anche questo qui lo spacchettiamo domani, io lo metto lì, ma se non nello spacchetto con voi perché mi dimentico, ricordatemelo voi, dunque, basta, adesso io sistemo tutto prima che arrivi a casa prontola, ed inizio a fare la cena, e noi ci vediamo domani con il continuo dello svuoto alla spesa, ah, magari vi metto anche il link dei cashback, oppure più che altro vi metto un link generale, un link generale, questo sì, magari se me lo ricordo, ma guarderò questo video, un link generale, dove c'è un gruppo, una pagina, dove sempre aggiornato sui cashback, su oppure spegni e riprendi, o su acquisti quel prodotto e ti rimborso a parte, acquisti due prodotti e te ne rimborso a uno, allora, io non compro le cose che non mi interessano solo per avere il rimborso, ah, oltretutto, ve lo dico dopo, non compro le cose che non mi interessano solo per avere il rimborso, però le cose che invece uso, o che potrei provare perché sono novità, in questo caso, oh, sì, ecco, stavo dicendovi che per i rimborsi spesso ci vuole, intanto dovete avere, regole generali, intanto dovete avere un, come si dice, un conto, IBAN, che potrebbe essere una carta ricaricabile, alcune però ultimamente chiedono proprio il conto corrente e deve essere intestato a voi, quindi non comprate, non fate cinque scontrini per avere cinque rimborsi con cinque, una cavolate cinque, con cinque ad esempio registrazioni mail diverse, perché deve essere intestatario del conto, quindi a meno che non hai il conto di un conto tuo, un conto di tuo marito, un conto dei tuoi figli, un conto dei tuoi zii, non lo so, però il conto deve essere tuo e controllano o ci annullano tutti quanti i cashback, quindi, ed è idea carina per provare i prodotti, tutto quanto bello per alcune offerte, anche per aiutare un po' l'economia, però non ne approfittiamo, ed è troppo, perché come tutte le cose sono belle, ma se iniziamo a fare i furbi, e non mi sembra il caso, ed è poi me li tolgono e basta, comunque quando editorò questo video, quindi list del futuro, quando editi il video, metti il link, se non lo sconoscevate, così lo conoscevate anche voi, e basta, adesso davvero vado! Ciao! Ciao! Ehi, sono qui! Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale, solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!